Turlucano per l'Onorevole di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli, Vicepresidente della Camera dei Deputati. La visita è cominciata a Matera nella Cava del Sole per poi proseguire ai cantieri di Rione Malve e Piazza Vittorio Veneto. L'occasione è stata utile per alcuni incontri istituzionali tra la dirigenza regionale e la segreteria provinciale di Matera guidata da Pasquale Di Lorenzo e i rappresentanti della Fondazione Matera Basilicata 2019 per tutti i leggeramenti sulle attività in corso. È una città meravigliosa che non deve assistere, celebrando questo momento importante del 2019, alle sue peculiarità, ma le deve rilanciare, promuovere, deve avere comunque il conforto delle strutture straordinate, quindi la regione, lo Stato. Insomma queste sono cose che tutti conosciamo, dobbiamo diventare operativi per tentare di valorizzare il più possibile questa peculiarità che forse è meno nota agli italiani di quanto non sia nota negli altri angoli del pianeta. Ha colto registrato criticità? Sicuramente ci sono dei ritardi, ritengo che siano comunque fisiologici perché ogni volta che c'è un grande evento gioco forza, l'abbiamo visto per l'Expo di Milano, l'abbiamo visto per grandi eventi anche di carattere sportivo, si arriva sempre a lavorare la notte, quindi noi confidiamo nella caparbietà, nella pazienza, nella disponibilità, nella generosità dei lavoratori, degli operai, delle imprese, delle maestranze tutte e poi ovviamente anche della capacità di sorveglianza e di indirizzo delle amministrazioni che comunque sono preposte a fare in maniera che tutto questo lavoro venga svolto a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e con la massima trasparenza e onestà. Sollecitazioni giunte anche dall'Associazione Matera Ferrovia sulla necessità nella prossima legge di bilancio di finanziare la ferrovia a Matera Egeo del Colle per raccordarsi alla moderna e veloce tratta Bari-Taranto. L'On. Rampeli ha anche incontrato il profetto Antonella Bellomo per un confronto sulla situazione dei furti e le aziende agricole nel Metapontino, per cui in programma una visita nel pomeriggio per poi chiudere la giornata a potenza alle 17.30 in piazza Duca della Verdura per un incontro pubblico utile accogliere le stanze dei Lucani.